Al Forum PA si è parlato di comunicazione di pubblica utilità, una formula efficace che applica gli strumenti e il linguaggio della comunicazione privata a quella pubblica. Da una parte c'è un sistema che ha bisogno di convincere il cittadino consumatore a compiere atti di acquisto. Questa cosa è importante perché tiene in piedi i mercati, la produzione, i consumi. Poi c'è un mondo che invece deve accompagnare il cittadino e la società nell'applicazione di leggi, nella legalità, nelle regolarità, in cose che non fanno magari molta notizia, accesso a servizi, a strutture, che deve servire tutti, che non può fare un marketing molto selettivo. Ora, rispetto a queste due tradizionali differenze, è anche vero però che entrambi questi mondi alla fine esprimano bisogni che quello che si chiama sistema paese deve ricomporre. Quindi ritrovare questo profilo dentro una parola che va un po' per la maggiore che si chiama identità competitiva, già vuol dire mettere insieme un po' pubblico e privato. E allora ecco che ci sono in un territorio che non è proprio l'impresa, che non è proprio il sistema pubblico in quanto tale, che cominciamo a definire pubblica utilità, possono convergere a raccontare gli interessi generali e collettivi e a dare interpretazioni della dinamica storica, di quello che sta succedendo, degli interessi in gioco, soggetti diversi, piccoli e grandi, pubblici e privati. Il cittadino stesso è un titolare di parola nella dinamica della pubblica utilità. Ora, un'Europa che dibatte di più le cose che poi si trasformano in decisioni, in cui tutti i soggetti hanno la possibilità, di ragionare, anche conflittuando, anche con opinione diversa sul territorio degli interessi generali, questa pubblica utilità mette insieme tante cose. Oggi ci sono le tecnologie che permettono di avere un campo comune e i media sono lì a raccogliere non più mondi solo separati, che presentano interessi gridati, ma a volte anche convergenze che raccontano il cambiamento necessario e le possibili soluzioni già un po' discusse, già un po' con uno sforzo di trovare punti di avvicinamento tra quello che è l'equilibrio democratico e quelle che sono le forze propulsive che possono gestire il cambiamento. L'Italia è un paese che ha tardato un po' a mettere in movimento questa logica e creare anche dei presupposti, perché poi bisogna volerlo e lo può volere una singola amministrazione, un singolo consiglio regionale, un singolo ente, cioè non è detto che deve essere una legge uguale per tutti, si può mettere in moto un meccanismo in cui il territorio, federalismo? E allora, federalismo, pezzi di paese possono affrontare i propri problemi non solo affidati, delegati, ma con un sistema partecipativo che comporta un agora e questa cosa, diciamo, se ne sente il bisogno e quando c'è il bisogno prima o poi arriva anche un ceto politico più innovativo e crea le condizioni per realizzarlo. Cosa manca nella comunicazione della pubblica amministrazione oggi? Manca la possibilità di dare messaggi forti, non ci sono più i grandi messaggi dello Stato risorgimentale che faceva l'Italia, dello Stato programmatore che faceva previsioni di dove andavamo, dello Stato imprenditore che faceva partecipazioni statali o Cassa per il Mezzogiorno, dello Stato che faceva le grandi riforme. Senza questi grandi messaggi evidentemente la comunicazione perde l'aura un pochettino profetica e diventa comunicazione di servizio.